Nome. Giuse Antonio Rodríguez Vega. Soprannome. Il killer delle vecchie. Numero vittime. 16 accertate. Modus operandi. Stupro, strangolamento. Rodríguez Vega è nato il 3 dicembre 1957 in Spagna. La sua infanzia non è stata delle migliori. Il padre lo picchiava continuamente e la madre lo cacciò fuori di casa. Più che per il padre, Rodríguez si iniziò a odiare profondamente sua mamma per averlo cacciato. Per vendetta verso sua madre, Rodríguez si iniziò a violentare molte donne fino al 17 ottobre 1978, quando venne arrestato e condannato a 27 anni di carcere. Grazie alla sua buona condotta e alla sua incredibile capacità di farsi perdonare da parte delle vittime, riuscì a farsi scontare la pena a soli 8 anni. Uscito di galera, la moglie chiese il divorzio. L'uomo non la prese bene ma si risposò con un'altra donna affetta, però, da problemi mentali. Sfruttando questo fatto, la umilierà e torturerà per tutto il tempo, fingendo alle altre persone di avere un matrimonio eccellente. Rodríguez era un abile bugiardo, dalla doppia faccia. Le persone lo reputavano un brav'uomo, laborioso, un ottimo marito. Non sapevano che in quella persona c'era una personalità oscura. 6 agosto 1987. L'uomo entrò nella casa di Margarita González, 82 anni. La signora fu violentata e soffocata. 30 settembre 1987. Carmen González Fernández, 80 anni, fu trovata morta in casa sua. Era stata stuprata e soffocata. Ottobre 1987. Nativida Drobledo Espinosa, 66 anni, fu picchiata, violentata e soffocata. 21 gennaio 1988. Carmen Martínez González, un'altra anziana signora trovata morta in casa sua. Uccisa con lo stesso modus operandi. 18 aprile 1988. Julia Pazvernácon con accento acute ondez, 66 anni, fu violentata e soffocata. È stata ritrovata nuda in casa sua. Purtroppo non abbiamo informazioni sulle altre vittime, poiché la loro identità non è mai stata resa pubblica. In seguito alle indagini, il 19 maggio 1988, Rodrigo Hezvega fu arrestato e confessò tutti i 16 omicidi. Ma in sede di processo negò, dicendo che erano morte per cause naturali. Rodrigo Hezvega è stato diagnosticato come uno psicopatico ben organizzato, calcolatore, dal cuore freddo. L'assassino studiava bene le sue prede. Le osservava per giorni e studiava le loro mosse. Poi, usando il suo aspetto pulito e il fascino di un giovane, cercava di conquistare la loro fiducia chiedendo se avevano bisogno di qualche lavoretto in casa. Una volta trovatosi in casa delle vittime, le stuprava e le uccideva. Giuse Antonio Rodrigo Hezvega è stato condannato a 440 anni di carcere. Il 24 ottobre 2002, Rodrigo Hezvega stava camminando nel cortile della prigione quando due detenuti lo hanno attaccato e brutalmente pugnalato, uccidendolo.